Ben ritrovati amici di Occhio Voce Italia, l'avete già visto dal titolo, si parla di ciccetta, di roba molto molto interessante, soprattutto in eventi come quello di adesso, quello dei sigilli, perché uno, è uno sbattimento trovare i sigilli, due, se non giochi non droppi i sigilli, tre, puoi farmare i punti, ma non è semplicissimo, cioè è semplice, ma sono pochi, vabbè adesso vi spiego tutto quanto per filo e per segno. Quindi, prima di iniziare ragazzi, andate in descrizione, cliccate sul link per entrare nel gruppo Telegram, perché siamo tantissimi, ci stanno divertendo un sacco, si parla anche di vecchi giochi Yokai, e c'è qualcuno che vi aiuta praticamente sempre, e poi soprattutto Instagram ragazzi, che siamo sempre attivi lì con gli Yokai che troviamo, con gli eventi, bla bla bla, storie, ok? Ma non dimenticatevi di lasciare like, il like è importantissimo, per non parlare dell'iscrizione, perché se non lo sapete, il 95% di voi che guardate il video non è iscritto al canale, e non va bene, e non va bene, e no, e no, anche perché stiamo organizzando un video guida, almeno sto organizzando un video guida totale dal punto A al punto Z di Yokai Watch, puni, puni, ex Wibble Wabble, se ve lo ricordate, se l'avete giocato. Però ragazzi, abbiamo chiacchierato già abbastanza, io voglio andare alla ciccia, a farvi vedere come sempre, come impostare al meglio il vostro autoclicker, però ricordatevi che non dovete usare per forza la mia impostazione, anzi, dovete usare la vostra, perché come sempre, io non so che team avete voi, non so che punto siete del gioco, non so se avete gli Yokai Bonus, eccetera, 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 ok? Come sempre, prima di tutto andiamo a scaricare l'autoclicker, io l'autoclicker uso autospazio clicker, ha proprio questa faccia qua, è proprio qua in mezzo di fianco a Wibble Wabble e puni puni, probabilmente il vostro dispositivo Android vi chiederà di andare ad abilitare la possibilità di scrivere, comunque è una roba tutta guidata, è veramente semplice, basta seguire quello che c'è scritto, di andare, stavo dicendo, di andare a poter selezionare, a cliccare automaticamente lo schermo, è proprio un'impostazione semplice, dovete farla. Poi, altra cosa importantissima, vedete che c'è la modalità target singolo, modalità multi-target e altro, ovviamente modalità target singolo non ci interessa, perché non dobbiamo andare a cliccare solo una roba, ma dobbiamo fare multi-target, però prima di andare ad impostare la nostra modalità multi-target, dobbiamo andare in altro nelle impostazioni principali. Ok, io vi consiglio di settare la dimensione del target e della barra di controllo al minimo, la parte più piccola, così non potete sbagliarvi, però dipende, magari giocate su un tablet grosso così, con risoluzione 4K potete tenerla grande, è indifferente, però io vi consiglio, se siete su un cellulare, di impostarla al minimo. Poi, seconda cosa, andate in modalità multi-target, abilita, e ci dice nuova configurazione, caccappu era quello che ho fatto nello scorso video, noi facciamo nuova configurazione, ok, questo è il nostro, come si dice, la nostra barra di controllo. Con il play facciamo partire l'autoclicker, con il più aggiungiamo il target numero 1, con il meno andiamo a togliere l'ultimo target che abbiamo messo, ok, quindi se noi andiamo a fare 1 e 2, li spostiamo, ovviamente cliccandoci sopra, tenendo cliccato e spostando con il dito, possiamo spostare il target. E con il meno andiamo a togliere il numero più alto, quindi l'ultimo che abbiamo messo. E con la rotellina dell'ingranaggio possiamo andare a cambiare il nome della configurazione, noi adesso la chiamiamo Bubu, Bubu Real, ok, non so perché mi è venuto così, gli diamolo ok, si chiamerà così, lo salviamo, quindi quando noi andremo a chiudere, per andare a chiuderlo dovete cliccare le quattro frecce, e fare la X e chiuderla, andiamo ad abilitare di nuovo, vedete Bubu Real è attivo con il nostro click, questa è proprio la base. Torniamo nell'ingranaggio, la parte in basso con scritto ferma dopo avviene indefinitivamente, dobbiamo tenerlo sempre fisso perché sennò vi dura 5 minuti in questo caso o 10 click, a meno che voi non vogliate farmare per un'ora e poi basta, non toccate niente, lasciate qua, ok? Ok, adesso possiamo andare, possiamo addirittura chiudere autoclicker e rimane attivo la nostra barra di controllo con il nostro targhettino, ok? Andiamo ad aprire il nostro puni, puni ragazzi, adesso vi spiego, teniamolo un attimo abbassato, vedete che se adesso ho schiacciato le quattro freccettine, l'uno se ne va, ma non vuol dire che non c'è più, vuol dire che lui continua ad andare se è attivato l'autoclicker, ok? Io in questo momento non sto farmando per fare questa roba qua perché ci tengo a farvi fare più punti possibili, a proprio estrapolare tutti i punti da ogni evento ragazzi, eh? Mi raccomando, andiamo su jackpot che è il mio account principale così vedete anche a che punto siamo dopo la live, chiudiamo tutto qua, siamo a 538k, andiamo a chiudere ancora, ok, qui roba, va bene, chi se ne frega, è stata fatta una multi, non so per quale motivo, ah forse era l'ultima che avevo fatto, allora io in questo momento sto farmando nel livello di super caldo can, però non so voi se con il vostro team riuscite a batterlo con l'autoclicker, quindi magari torniamo indietro, andiamo sul 45 che è abbastanza semplice, anche se è un boss però fa niente. prima di iniziare a mettere i punti ragazzi dovete capire se voi siete in still mode o free mode, quella verde o quella rossa, l'avete scelto a inizio evento, se siete in still mode io direi che non avete grossi problemi perché uno farmerete di più, due probabilmente avete scelto di non andare a completare tutti i 4 sigilli, cosa che secondo me ha più senso all'inizio andare in free mode, quindi nella verde e non rischiare che gli avversari, i nemici, gli altri player ci rubino i nostri sigillozzi che abbiamo sudato con l'autoclicker, quindi ha sudato la batteria del cellulare e niente, quindi questa roba qua dovete vedervela voi. subito, primo consiglio, voi tenetevi aperto in alto a destra il tesoretto, così vedete dove non dovete andare a cliccare, voi non dovete andare a mettere target, quindi click sui tasti gialli, perché se andate a cliccarli vi apre per esempio questa schermata ed è un bello sbattimento perché poi magari avete un click che va su questo altro tasto giallo e quindi vi manda un po' a rubare, ok? E poi se non avete un click qua sul viola in basso rimanete fermi, bloccati per sempre in questa schermata un po' useless, ok? Quindi attenzione, noi andremo a lavorare sicuramente in questa schermata qua, dobbiamo mettere i click, i target, sull'azzurro, ok? Quindi iniziamo a mettere un paio di target. Altra cosa che vi faccio notare, se cliccate sopra un target vi si apre questa schermata, questa finestra, questo pop-up dove vi dice a quanti millisecondi volete impostare il target successivo, il tempo di intervallo prima del successivo click, ok? In base al vostro dispositivo dovete studiarve la strava qua, io per esempio sul cellulare che sto usando, che era il vecchio cellulare che usavo per le live, che sto usando per far andare il clicker, io ho 10 millisecondi perché ho un bel cellulare, avete un cellulare un po' pacco, io vi lascerei qua di non toccate il 100 millisecondi lasciatelo così, quindi andiamo su annulla. Poi sicuramente avremo un click qua in basso, questo è il più sbattimento ragazzi, cioè questa roba qua dovete essere precisi al decimo di millimetro, dovete essere precisissimi, però tendenzialmente la zona è qua in mezzo, ok? Adesso ve lo faccio vedere meglio. Ottimo, quindi andiamo indietro, anzi no, vediamo un po' se voi non dovete neanche cliccare su questi tasti come dicevo prima, quindi attenzione, fate molta attenzione anche a questo passaggio qui. Poi, torniamo indietro, schermata principale, noi vogliamo far amare sul livello 45, quindi sicuramente un click va sul livello 45 in modo tale che lui clicchi, si apra questa schermata e ovviamente noi adesso dovremo andare a mettere un altro click sulla schermata, cioè sul tasto giallo che fa proseguire nella battaglia, ok? Dopodiché possiamo tornare indietro, mettiamo altri click a caso che sono quelli che andranno a scoppiare i nostri puni in partita, qui dovete vedere voi in base al livello in cui state, questo qui vedete lo spostiamo già un attimo, e qua lo dobbiamo già spostare, in cui state per andare a farmare e quindi è variabile. Perché ho spostato il tasto numero 4? Perché c'era un amico che stava farmando a livello 44, quindi se per caso il click fosse andato sulla testa di Meliodas si sarebbe aperto questo, e quindi altro problemone, perché se non avete il click che va sul tasto viola, ragazzi è più uno sbatti spiegare sta roba qua, è più facile mettersi mezz'oretta, impostare tutto, piuttosto che stare a spiegare come farlo, è una roba veramente stupida da fare, ok? Però bisogna perderci del tempo. Io vi do la dritta, come dicevo negli altri video. Quindi, clic sul tasto viola e siamo a posto così. Quello che vi dicevo prima, il numero 3, che è quello che era sul clic sul tasto viola, è il più sbatti, perché è un attimo che andate a cliccare lo score attack ed entrate nello score attack, oppure iniziate a regalare anime a caso ai vostri amici, ok? Quindi, consiglio secondo me, quando siete in questo evento, prima di tutto andate a togliere tutti gli amici, perché tanto non vi servono, le anime ve le comprate dopo, perché tanto ve le andrete a comprare, come faccio io, se non sapete come si comprano le anime, cosa che aggiungerò nel video quando riuscirò a farlo, 50 anime vi costano 6.000, io tendenzialmente ogni partita faccio 200, 200, 250 Y money, quindi è veramente un attimo, non finirete mai i soldi, ok? Se vi fate un attimo un calcolo, 50 vite per 250 ve lo ripagate senza troppi sbatti, quindi vi farmerete sia punti che anime, punti anime e soldi, tutto farmate, si farma tutto ragazzi. Allora, torniamo a bomba. Noi non dobbiamo neanche mettere click sui personaggi che ci sono nella mappa, perché se no si apre anche questo pop-up. E cavolo ragazzi, è veramente sbatti rifarlo da zero. Altra cosa, altro mega consiglio, quando ci sono gli altri eventi, non so, la la sling, il golf e tutti gli altri eventi, le scatole, voi non disinstallatelo l'autoclicker, tenetelo lì perché 99% delle volte quando ci sarà un altro evento come questo, con i sigilli, la base è fatta. Cioè voi dovete spostare magari solo il target, il click del livello dove volete andare a farmare e il gioco è fatto. Cioè, zero più sbatti, quindi vi fate lo sbattimento la prima volta e poi siete a posto per il futuro. Quindi ragazzi, fate molta molta attenzione. Andiamo a fare un test, così a caso. Ah no, scusate, stavo dimenticando di mettere quello dell'Energymax. Tendenzialmente è da queste parti, eh. Tendenzialmente è da queste parti, ok. Proviamo a fare sto test qua. Ho sbagliato. Facciamo play, vediamo un po' cosa succede, dove si può buggare. Ok, è partito. È partito. Facciamo questa... Vedete che continua a cliccare in automatico. Facciamo questo test, se non crasha il cellulare. Il cellulare non è abituato all'autoclicker. Ok. Come vedete il punto 8, che è quello che va a cliccare l'Energymax, è pronto. È nel posto giusto, perché io voglio che l'Energymax da fare sia solo quello dell'ultimo yokai, quello più a destra, ok. Che mi shotta, a me shotta super caldo, kan, quello del livello che vi dicevo a inizio video, praticamente, ok. Energymax caricata. Boom. Fatto. Shottato. Quindi punticini che ci portiamo a casa. Adesso metto un attimo in pausa, vi faccio vedere. Quindi noi in questo momento abbiamo farmato. 200 punti, 200 money, ok. Prima di andare a vedere, ragazzi, mi fermo un altro, un attimo, un altro secondo, perché vedete che il 2 sta andando a cliccare sul... Fai salire di livello questo yokai draghetto, super draghetto. Io non voglio che in questo momento lui lo vada a cliccare, perché non voglio spendere punti, perché non mi interessa portarlo su di livello. Quindi noi lo dobbiamo spostare. E, altra cosa, vedete che sul tasto giallo in basso non c'è il click. Dobbiamo spostarlo. Boom. Ragazzi. Primo spostamento fatto. Quindi, andiamo avanti. Abbiamo farmato 25 punti. La media è questa. Se non avete i bonus è molto di meno, perché vedete, io ho tutti e due i bonus. Ho l'extreme noco che mi dà 5 e lo zz che mi dà più 7. Quindi io farmo 25. Probabilmente voi ne farete di meno. Anzi, io ne faccio 28 nell'altro livello. Ok. Quindi, il tasto sull'ok c'è e più o meno siamo a posto. Dobbiamo rispostare il 4 perché andiamo ancora su Meliodas. Andiamo a cliccare sul forziere. Aiii. Bello sbattimento. Bello sbattimento. Quindi cosa facciamo? Andiamo a togliere come amicizia Meliodas perché ci dà parecchio fastidio che sia lì. Ok. Io poi andrei anche a mettere altri click qua in basso che sono abbastanza safe perché voglio che quando sono in game ci siano più click, quindi più velocità nel generare l'EnergyMax dello yokai che voglio. Ok, ragazzi. Poi voi piano piano vi spostate tutto quanto. Lotto lo sposto un pochettino più a destra perché tanto il cerchio dell'EnergyMax dello yokai era abbastanza grande. Lo tolgo, l'ho spostato perché se no, ragazzi, andava a cliccare quel tasto là. Ok. Io direi che l'infarinatura generale ce l'avete. Dovete voi impostare in questo momento, dovete solo capire che team dovete usare, che livello, in che livello potete mettervi a farmare, comprare le vite all'inizio e lasciarlo andare. Ovviamente la prima mezz'oretta state col telefono in mano, guardatelo, vedete dove si blocca, cercate di capire come impostarlo al meglio, come spostare i punti in base ai suggerimenti che vi ho dato. Una volta fatto questo, ragazzi, lo lasciate andare e state a posto. Potete smettere di guardare l'evento per un giorno intero. Altro consiglio che vi do è che ricordatevi che alle 17 cambi al giorno, quindi stampa il timbro, entrerà in atto, andate a riscattarlo perché ogni tanto lui dice, ah, tipo a mezzanotte, orari improponive, alle 2 di notte, generalmente di notte, quando tu non lo stai guardando, non puoi controllare, dici, ah, sai che c'è, adesso ti faccio vedere il timbro che avresti preso alle 17, e si blocca un attimo. Puni, puni, non vi butta fuori mai, io sono 4 giorni che sto farmando no stop, tranne in questo momento che mi sono fermato per girare il video, siamo fermati da una ventina di minuti, e adesso tornerò a farmare a bomba. Però, ragazzi, ricordatevi che il vostro dispositivo ha una batteria e che se è sempre sotto stress sia per il gioco che per il caricabatterie, il telefono non vi dura poi così tanto. Il mio tablet che usavo per farmare una volta, ragazzi, ha tirato le cuoia. E quindi, fate voi, c'è gente che farma anche su Bluestacks, che è l'emulatore Android per PC. Altro consiglio che potete fare è, quando giocate a Fortnite, perché so che giocate a Fortnite, se non è così, metti un bel like, se è così, mi metti un commento che si dice, ah, sì, sì, hai ragione, io gioco a Fortnite, e sono un pro, sono più forte di Power e di Ninja messe insieme, perché lo so che ce n'è di gente forte tra di voi. E, ragazzi, cavolo, vi ho spiegato tutto per filo e per segno, adesso sta a voi. Fatemi sapere nei commenti e sul gruppo Telegram se siete riusciti a impostarlo, lasciate like, ragazzi, iscrivetevi perché è importantissima questa cosa di iscrizione, perché sennò non capite quando ci sono nuovi video. E se proprio volete fare una roba gigantesca, attivate la campanella. Noi ci vediamo al prossimo video, che probabilmente sarà un bellissimo video di Shogu o di Steph, con una F, ricordatevelo, non più F, stavo scherzando, la tolta, ne ho solo una, l'ho preso un po' in giro, sapete. E vi aspetto in live al prossimo evento. Sull'orario ci aggiorniamo, perché dipende se lavoro. Ok, ragazzi? Vai con i pollicioni su. Bella lì, alla prossima. Ciao, ciao.